e ciao a tutti ragazzi ebbene sì sono riuscito ad avverare il mio sogno ovvero catturare una marmorata over 50 centimetri nel torrente astico dopo un lungo combattimento sono riuscito a portarla a guadino qualche foto ed è tornata nel suo amato fiume per la sua salvaguardia preferisco non pubblicare il video della cattura e infine mi raccomando sempre di rilasciare questi pesci vi saluto con il video del rilascio e noi ci vediamo al prossimo video ciao abbondanti vai bella grazie mille la suggeriamo un po e parte